Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Barberino del Mugello provenendo da Firenze per traffico intenso. In CPD per lavori di miglioramento della sicurezza restano 2 km di coda tra Empoli e la Strassigna, verso Firenze rallentamenti in carreggiato opposta tra la Strassigna e Montelupo. Ricordiamo i percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Per altri cantieri coda di un chilometro verso Livorno tra Empoli, Ovest e San Miniato. Prima di salutarci ricordiamo che per quest'oggi è stato convocato uno sciopero del trasporto ferroviario in vigore fino alle 21. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Meropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!